Natale nel castello è l'evento di Natale di Montemangior al Metauro. Si aprirà sabato 9 con una pericina teatrale dove all'interno avremo delle letture a cura dell'associazione Liberamente. Dopodiché la serata si concluderà a teatro con una bellissima rappresentazione del gruppo Musiche e Parole. Si continua la domenica dove sarà l'evento clou di questa festa. Si partirà il pomeriggio dove la regina del castello con le sue dame insieme a Babbo Natale e con i suoi elfi inaugureranno e daranno il via a questo bellissimo pomeriggio. Avremo gonfiabili per i bambini, ci saranno tante animazioni, le zie di Babbo Natale come trampolieri, un bellissimo spettacolo di fuoco. Non ci dimentichiamo del coro gospel, il fano gospel choir sarà con noi e in più sempre in teatro avremo il San Costanzo Show che ci proporrà il suo film comico Non aprite quella sporta con tre proiezioni durante la domenica pomeriggio.